Io sono Sardinia Magazine, specializzato nella stampa di tabloid a diffusione gratuita, free press di accoglienza turistica da un lato, ma free press anche di valorizzazione delle filiere produttive. In questo caso abbiamo portato la nuova iniziativa editoriale che si chiama Casa NOA ed è un progetto editoriale volto a valorizzare tutto il comparto dell'immobiliare, un magazine a diffusione gratuita che racconta degli attori del territorio, della Sardegna, che operano nell'ambito del mobile, del design, dell'architettura, della progettazione, ma anche della vendita dell'immobiliare. Unico nel suo genere, non esiste un format editoriale così concepito.